Senta, parliamo invece di uno che non è un politico. Intanto, com'è nato il suo rapporto tanti anni fa con Fedez? L'ha scoperto lei? No, 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 il nostro rapporto è nato da Scazzi. Cioè la sua linea editoriale era quella dei ribelle e quindi tutto ciò che rappresentava la borghesia, tra cui anche Facchinetti, il figlio di Facchinetti, era un nemico. Dopodiché abbiamo litigato, abbiamo litigato fino ad arrivare ad essere uno il nemico numero uno dell'altro e finché a un certo punto ci siamo incontrati e ci siamo capiti. Da una parte ho detto, tu sei un fuoriclasse, mi piacerebbe lavorare con un fuoriclasse, io come se fossi un allenatore, quindi mi piacerebbe lavorare con Ronaldo e lui dall'altra parte... Perché è un fuoriclasse Fedez? Fedez è un fuoriclasse perché ha la capacità di andare oltre rispetto a quello che fanno gli altri, è un grandissimo soldato di se stesso e addirittura anche troppo, certe volte ti dico, devi stare un po' più indietro. E questa è la sua grande forza. Lui è la dimostrazione che la forza di volontà va oltre anche il talento, anzi può diventare il talento e quindi lo sta dimostrando. Secondo lei Fedez durerà nel tempo come è durato suo padre per esempio? Per me Fedez fa un altro mestiere, Fedez fa il comunicatore, non fa il cantante, fa il comunicatore.